E torniamo in diretta per la seconda parte dove come annunciato andiamo a conoscere alcuni dei contenuti di un libro che poi verrà presentato lunedì prossimo a Bologna, scritto da Flavio Del Bono, docente di economia politica all'Università di Bologna, ex sindaco di Bologna, assessore al bilancio in regione, insomma un passato in politica e un presente all'Università. La rivediamo con piacere, come sta? Bene, bene, mi fa piacere essere qua, buonasera a tutti. Allora buonasera, la piramide del potere che cosa vuole fotografare? Ma gli obiettivi sono più di uno. Innanzitutto avevo scritto un libro nel 2012 che riguardava la crisi, cioè la crisi di chi è la colpa. E lì spiegavo che fondamentalmente la crisi attuale è stata innescata da una crisi finanziaria, quella del 2007-2008. Questa volta cerco di concentrarmi su delle radici più profonde, su delle cause più strutturali e sostengo la tesi che l'aumentata diseguaglianza economica, cioè nei redditi e nella ricchezza, che ha caratterizzato tutto il mondo occidentale negli ultimi vent'anni, rappresenta uno dei fattori strutturali che ha concorso a innescare poi la crisi. Quindi, come dire, il pagliaio è stato reso infiammabile da molta diseguaglianza, poi la crisi finanziaria è stata fatta da detonatore, da cerino. Questa è una prima spiegazione. Cioè questo è il fenomeno che ha portato a concentrare la maggior parte dei poteri, del denaro, del potere economico, nelle mani di sempre meno persone, eliminando il potere della cosiddetta classe media, che è quella che ha mandato avanti le cose per molto tempo, soprattutto nel nostro paese, conosciamo questo fenomeno. Esattamente così. Il cosiddetto ceto medio ha perso potere economico e quindi è scivolato. Una piccola parte è salita in una piramide sempre più aguzza, con una punta sempre più stretta, e molta di quella che fino a qualche anno fa era considerata classe media in termini di reddito, è invece scivolata via via verso la base. Questo è un processo che è iniziato negli anni Ottanta. Negli Stati Uniti è stato più vistoso che in Europa, ma anche in Europa alcuni paesi più di altri hanno evidenziato questa tendenza, ripeto, sia sul reddito che sulla ricchezza. Del bono potere dell'economia che determina anche la politica, ad esempio, del nostro paese. Siamo stati appesi allo spread e poi alla decisione dell'Europa che determina molte scelte guardando quella che è l'economia di un paese, da cui governi che si alternano non era così in passato, o almeno non così evidente. Non così evidente. Questo lei ha già spiegato brillantemente cosa c'è dietro il titolo, perché la piramide del potere, lo spiego alla fine del volume, vuole appunto indicare che chi è in cima alla scala economica finisce per influenzare, a volte addirittura determinare anche le scelte politiche più importanti. L'esempio della finanza è sotto gli occhi di tutti. La finanza che ha per anni fatto il buono e cattivo tempo con guadagni immensi, poi ha provocato, ha concorso a provocare la crisi attuale, una crisi dolorosissima e lunghissima con sofferenze, disoccupazione e tant'altro, e ciò nonostante le banche sono state salvate con i soldi dei contribuenti, sia in America che in Europa, sono tornate a fare utili più e come prima e nessuna regolamentazione in grado di prevenire ulteriori disastri è stata introdotta ovunque. Questo è il classico esempio in cui detenere il potere economico fa sì che si eserciti una forma di potere esagerato anche sul piano politico. E poi si tiranneggia in qualche modo sul potere, ad esempio di un paese come l'Italia, minacciando declassamenti, minacciando esclusioni dai vertici appunto dei paesi che comandano, che determinano scelte importanti. Lei come vede le prospettive, diciamo a medio breve termine per questo paese? Fare previsioni in questa fase qua è molto difficile, infatti chi le fa regolarmente non le azzecche, a perché siamo in una situazione che non ha molti precedenti nella storia del capitalismo, insomma per trovare una crisi di questo tipo bisogna andare agli anni 30. E secondo, ricordiamoci sempre che il funzionamento di un sistema economico e quindi anche l'uscita dalla crisi dipende molto dalle politiche che vengono intraprese sulle quali ci sono molti dubbi, cioè se uno si chiede che cosa farà il governo italiano, cosa faranno i governi europei nei prossimi mesi non è facile rispondere. Beh, in Italia abbiamo un governo di servizio con un'inedita maggioranza che ha grandi obiettivi. Io non credo che questo governo riuscirà a concludere molto, a meno che non ci siano dei cambiamenti su scala europea. Ricordiamoci che siamo nell'euro e quindi la nostra sovranità, la nostra autonomia su delle decisioni importanti è subordinata a un assenso europeo. Quello che possiamo fare è di vedere se hanno funzionato le politiche degli ultimi due anni, le cosiddette politiche di austerità, e la risposta è no. Vedo con piacere che anche a livello europeo, lo stesso governatore Draghi, altri rappresentanti di governi, anche francese per esempio, cominciano a rendersi conto che il tipo di medicina che è stata prescritta ai malati sta producendo più danni che benefici, quindi questa storia dell'austerità, ma non per dire che bisogna largheggiare. A cambiare almeno registro. E forse alcuni vincoli vanno temporaneamente sospesi se si vuole evitare di ammazzare il paziente. Insomma, economia e politica, ma lei ha la politica nella quale ha avuto un ruolo attivo, finché conosciamo la sua vicenda, adesso come guarda? Con molto distacco, mi occupo più di politiche economiche nel senso nazionale, internazionale del termine, perché occuparsi di economia è pressoché impossibile lasciare la politica economica fuori, sicuramente non sono particolarmente interessato al dibattito interno o men che meno alle beghe locali. Ma insomma del buono neanche quando guarda le sorti, ad esempio, del partito di cui lei faceva parte, il PD in particolare in Emilia, che ha visto, come dire, crollare quello che sembrava essere appunto il potere del PD emiliano, che con Bersani ha perso questo suo ruolo, questo suo smalto, insomma qualcosa andrà ridisegnata. Il potere si sta spostando altrove, non più in Emilia. Ma guardi, se devo pensare a una decadenza del PD locale, basta, mi prendo uno spunto molto semplice. Oggi, parlando in un'altra sede, mi ero permesso di criticare il PD e le scelte nazionali, mi ha risposto Claudio Mazzanti. Ecco, se il PD bolognese, l'erede del grande PC, si riduce a farmi rispondere a un personaggio come Claudio Mazzanti, vuol dire che non sono messi particolarmente bene, l'ex presidente del quartiere Navile. Sì, lei era intervenuto sulla vicenda di Romano Prodi, che tra l'altro sarà presente alla presentazione lunedì prossimo del suo libro, di questo rapporto col PD che lo ha impallinato per il Quirinale e adesso non sa se rinnoverà la tessera. Sì, credo che tutti gli osservatori, che siano del PD o no, siano rimasti straordinariamente delusi dalla conduzione sia della campagna elettorale sia delle strategie successive. Non c'è bisogno di essere dei politologi per capire questo. Io non è che gioisco nel rilevare che è andata così e fra l'altro tra le vittime, diciamo, di queste strategie sbagliate, raffazzonate, così, dilettantesche, insomma, si è lasciato sul campo un nome come quello di Romano Prodi che io avrei tutelato un po' di più essendo il fondatore, il padre del partito. Quindi, se ricordare queste cose qua fa male, dovrebbe essere uno spunto, come dire, per guardare avanti e non per fare delle ulteriori polemiche. Lei tempo fa, rivolgendosi a un personaggio, insomma, molto di cui abbiamo parlato anche nel telegiornale, il presidente Erani parlò di killer politico, in qualche modo, nella sua vicenda. Le ridirebbe quelle parole? Le pensa ancora? Ah beh, ma non avevo mentito allora, quindi sollevò un gran vespaio, ma, insomma, Erani lo sa come sono state, diciamo, gestite le mie dimissioni. Quindi, è la pura e semplice verità. Io non sono affatto pentito di essermi dimesso. Credo che sia stato giusto, perché chi ha responsabilità di governo, specie a quel livello, non solo deve essere al di sopra dei sospetti, ma anche sembrarlo. Io evidentemente non lo ero, io ho chiesto scusa alla città, credo che la città sia stata danneggiata, insomma, si è ritrovata a vedere quattro sindaci in due anni, tra 2009 e 2011. Poi, col tempo, come io avevo anticipato, le mie responsabilità si sono ampiamente ridimensionate. Io dissi il tempo è galantuomo e non è ancora finita, perché altro tempo lo renderà ancora più galantuomo. Quello che a me ha ferito del comportamento di molti rappresentanti del PD, locale, soprattutto locale e regionale, non è stato tanto il fatto che abbiano sollecitato le mie dimissioni, perché forse al loro posto avrei fatto lo stesso, non sono riusciti a gestire. Magari potevano anche chiedermi cosa ne pensavo, ma questo fa parte dello stile. Io quello che stigmatizza è il comportamento successivo, nel senso che intanto persone con le quali avevo lavorato per anni, gomito a gomito sono assolutamente sparite, che se l'incontro per stata si girano dall'altra parte. Gente che, come dire, si vantava di essere, tra virgolette, mio fratello, a questo punto sono contento di essere figlio unico. E dall'altra i due pesi e due misure, perché vedo che quando in vicende giudiziarie entrano altri personaggi del PD, anche locale, vedo che c'è subito una protezione, uno scudo sanitario, a prescindere la presunzione di innocenza prima ancora che la giustizia si pronunci. Trovo questo vagamente togliattiano, cioè un po' da doppia moralità. C'è la moralità dei propri compagni, chiamiamoli così, e c'è una moralità che si applica agli altri. Io è questo che ho stigmatizzato, quindi Mazzanti forse sarebbe meglio di si occuparsi del Consiglio Comunale invece che di prendersi la briga di rispondere a me. E rimane sempre aperta un'ipotesi, chissà mai, di un domani di nuovo di appassionarsi alla politica o l'economia e insomma la cattedra? Allora, di fare politica attiva non ci penso proprio, o di tornare nel lagone politico non sono interessato. Ed è tutto evidente che politica si può fare in molti modi, non c'è bisogno di essere eletti o di avere responsabilità amministrative. Questo è un libro che per molti versi potrebbe essere scritto anche, anzi dovrebbe essere scritto da chi ha responsabilità amministrative di tipo economico. Quindi io sono contento dell'esperienza che ho fatto, però come dire, sono tornato al mio mestiere originario. Lo possono leggere tutti la piramide del potere, del bono? Sì, devono fare un piccolo sforzo all'inizio, come dice, un piccolo pedaggio iniziale quando parlo della diseguaglianza, di come si misura, però ecco, è un investimento che va fatto. Comunque è un libro pensato per tutti, non è per addetti ai lavori. Lunedì alle 18 verrà presentato alla Feltrinelli di Bologna, ci sarà presente anche Giuliano Cazzola, Romano Prodi, Stefano Zamagni, l'editore Francesco Ponzelini perché è edito da editrice e compositori, la piramide del potere, disuguaglianza e crisi economiche. Grazie a Flavio Del Bono per essere tornato nei nostri studi, a voi per averci seguito, la pausa e poi di nuovo la parola a Matteo Fogacci.